Il mercato della sicurezza richiede soluzioni che comunque si possano vestire su quello che è l'applicazione. Quindi Bosch nonostante abbia e ha la possibilità di proporre delle soluzioni complete e molto ampie, si deve comunque aprire a delle soluzioni per quello che è l'applicazione dell'utente finale. Nel caso specifico la partnership con Genetec e con DST ci ha consentito di offrire qualcosa che effettivamente calzasse la richiesta dell'utente finale, cioè qualcosa che sposasse la parte architettonica e la parte strutturale dell'applicazione. C'è anche da dire che la partnership con Genetec è ormai avviata da molti anni e grazie all'integrazione piena dei prodotti ci consente di sfruttare tutte le funzionalità a bordo dei nostri sistemi pur utilizzandole in piattaforme che non sono di proprietà Bosch. Questo alla fine consente di sfruttare tutto ciò che fa parte del nostro portafoglio, di offrire una soluzione all'utente finale e infine attraverso un canale formato di partner e nel caso specifico di DST di definire, di allineare qualcosa che è vestito sulla richiesta del cliente.